Senza Bavaglio intende occuparsi delle elezioni comunali di Taranto o meglio dei preparativi, chiamiamoli così, per la presentazione delle liste. Stiamo assistendo ad una confusione, ad un caos davvero incredibile per quanto riguarda candidature, quindi candidati sindaco, candidati al Consiglio Comunale, rapporti, alleanze, tra partiti, coalizioni, insomma una confusione che a memoria Duomo mai si è verificata in questo modo, in questa misura nel comune di Taranto. Analizzeremo la situazione nelle varie coalizioni, partiremo oggi dal centro-sinistra, ma devo dire che anche i nuovi profeti della politica, il Movimento 5 Stelle sta steccando miseramente, basti vedere, il caos, la guerra interna tra i vari meet-up Tarantini, ma ne parleremo in maniera approfondita. Partiamo oggi dal centro-sinistra. Quando parliamo di centro-sinistra dobbiamo parlare di PD, perché poi il resto dei partiti che rappresenterebbero questo tavolo di centro-sinistra parliamo di realtà infinitesimali che a livello di consenso elettorale possono tranquillamente essere rappresentate dai prefissi telefonici. 0,2, 0,3, 0,4, 0,9, se qualcuna di queste realtà facenti parti del tavolo di centro-sinistra supera l'1 o il 2%, già è un miracolo. Quindi parliamo di poca cosa, con tutto il rispetto per carità. La funzione egemone, il padre padrone diciamocelo, della coalizione di centro-sinistra è il PD. E nel PD, nel Partito Democratico Ionico, avete visto, stiamo vedendo come sono volati gli stracci, come dire fratelli coltelli è poco. Consideriamo le uscite, tutt'altro che felici politicamente parlando, dell'onorevole Michele Pelillo, il quale Michele Pelillo ha ovviamente spaccato il partito dal momento che ha, tra virgolette, imposto per carità, non è che ha imposto con una pistola, ci mancherebbe altro, ma ha caldeggiato in maniera pesante certe candidature che non hanno fatto altro che spaccare ovviamente il partito. Penso per esempio alla candidatura del collega Walter Baldacconi, direttore di Studio Centro, che a detta di Pelillo doveva essere un nome che univa, invece è stato un nome che ha diviso, ha lacerato, ha spaccato il partito. Il problema non è Baldacconi, massimo rispetto per il collega, ma è la modalità con cui si propone e si impone un nome. D'altronde Pelillo ha spaccato il partito, perché poi abbiamo visto la rottura già antecedente tra Pelillo e i Liberdem, ossia quella costola che fa capo a Gianni Azzaro e ad altri rappresentanti. Ma al di là di questo, per andare alla sintesi, ora sembra essersi trovata una sorta di quadra, un accordo, un patto di non belligeranza che vedrebbe in un certo qual modo unite le varie anime del partito sulla figura di Rinaldo Melucci, presidente dello Union Shipping Consortium, relativo al porto ionico. Sinceramente tutto il rispetto per Melucci, ma mi sembra una soluzione che cerca di salvare il salvabile, che cerca di unire le rime, saldare le rime di questa frattura, ma la frittata è bella e fatta, perché il PD ha dimostrato di essere un partito litigioso, un partito spaccato al suo interno, in cui si fa solamente polemica, in cui basti vedere le ultime direzioni, l'ultima assemblea meglio, in cui veramente avete visto Pelillo che ha praticamente accusato di tradimento Vico, pensate un po', erano gobito a gomito e Pelillo politicamente parlando, dialetticamente parlando ha sferrato un pugno, per così dire, al collega Vico. Immaginate voi da casa l'elettore quando vede certe situazioni, legge certe pagine di giornali, vede le immagini in tv, dice ma questo è il partito, il PD è il partito che dovrebbe stare dalla parte della gente, il partito democratico, gli eredi della tradizione comunista, ma questi sembrano gli eredi della peggiore tradizione democristiana. Un partito in cui si fa la lotta per le poltrone, un partito in cui ci si spacca all'interno e poi alla fine le esigenze della gente non vengono per nulla considerate, interessa che io vada là, che tu vada là e quell'altro vada lì, ma alla fine, ripeto, la politica con la P maiuscolo, la politica come servizio nei confronti della collettività non si vede affatto, si vede poco, d'altronde non dimentichiamoci le responsabilità politiche enormi del partito democratico che il partito di maggioranza relativa al comune di Taranto ha sostenuto fino alla fine e sta sostenendo fino alla fine l'agonia dell'amministrazione Stefano, dieci anni di paralisi e di palude assoluta. Allora il PD è corresponsabile, responsabile per il fallimento dell'amministrazione comunale di Taranto, responsabile del PD per l'amministrazione comunale e ora vedete questo, diremmo con un'espressione tarantina, questo squascia squascia, si è rotto tutto. L'elettore, cari amici del PD, si fa per dire cari, non è un pacco postale, non è un oggetto che voi lo prendete, lo spostate da qui a lì e il pacco deve stare posizionato lì senza parlare. Grazie a Dio il cittadino è una mente pensante, è una mente libera e può parlare, parla, è nota lo schifo politico perché così va definito che il partito democratico sta facendo a Taranto. È tutto, senza bavaglio, oggi è toccato il PD. Poi parleremo dei 5 stelle, poi parleremo del centrodestra, ci divertiremo, ci divertiremo, sempre senza bavaglio. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.